Un'iniziativa che coinvolgerà Piazza Saffi questo sabato e questa domenica, di cosa si tratta? Allora abbiamo partorito questa idea di promuovere il nostro territorio partendo appunto da Piazza Saffi per recuperare cultura e tradizione di Civitavecchia. È un evento che raccoglierà quattro iniziative fondamentali, che è un percorso enogastronomico, ci sarà una mostra del vinile, i famosi LP, i nostri dischi dei nostri tempi passati, dove ci sarà una mostra con ascolto di musica, di vinili datati ma di ottimo pregio, ci sarà un percorso guidato per le nostre sedi più belle della zona, quindi la Chiesa dell'Orazione, ci sarà la visita alle stanze dell'Affaello, almeno così si spera che siano, e ci sarà poi un altro percorso che è appunto la tradizione culinaria attraverso la degustazione di pesce locale certificato, tracciato, presso i ristoranti che hanno aderito. Diamo le ultime informazioni, quando inizieranno queste attività? Ma non c'è un orario preciso, diciamo sulla mattinata inoltrata, verso le 10, 10 e mezza, inizieranno questo tipo di attività, si partirà ovviamente la fiera del vinile, dalla mattina è già aperta la sala qui a Piazza Saffi, poi ci sarà la possibilità di, sperando una bella giornata, ci sarà la possibilità di fare un percorso più volte per appunto la Chiesa dell'Orazione, come ho detto prima, e altri siti, e poi ci sarà la possibilità di aperitivi appunto a base di pesce locale fritto, come aperitivo ripeto, e poi la possibilità di mangiare presso i ristoranti, sia a pranzo che a cena. Grazie a tutti.